Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video e prima ancora di cominciare vi devo fare una premessa, una lunga premessa, vi devo parlare seriamente di una cosa molto importante e dopo procederemo al video, quindi vi prego guardatela tutta. Come tutti sappiamo purtroppo è ricominciata la scuola e dunque questo significa che devo ovviamente non prestare più l'attenzione quasi esclusivamente a YouTube ma ovviamente anche ai compiti, alle materie, a studiare e anche un po' gli amici. Sono sempre stato dell'idea che YouTube per me non debba essere un obbligo per cui io non mi debba sentire obbligato di dover caricare un certo numero di video alla settimana perché ho anche io 15 anni, ho una vita sentimentale, ho una vita tra amici e quindi ho voglia di divertirmi e purtroppo devo anche studiare. Questo significa molto semplicemente che non porterò più 3 video a settimana come ho fatto di estate per cui nulla è cambiato dalla regolarità dell'anno scolastico ma cercherò di caricarvene comunque 2 che sono abbastanza. Naturalmente vi ricordo che io possiedo anche un secondo canale per chi non lo sapesse nella descrizione di ogni singolo video c'è scritto canale motocross e c'è il link per accedere al canale, si chiama Edoardo Iannone e iscrivetevi anche lì perché lì è probabile che io vi porti anche di più di 2 video a settimana perché quando qui per registrare un video del genere devo prendermi del tempo e anche adesso ho appena mangiato e subito dopo devo andare a studiare quindi sto facendo un po' tutto di corsa, in quel canale se io esco con gli amici registro e quindi mi viene molto più semplice portarvi dei contenuti. Detto questo vi lascerò un sondaggio qui in alto a destra tramite il quale voi potrete decidere in quali giorni della settimana far pubblicare i video. Mi raccomando votate veramente tutti è semplicissimo basta cliccare sulla I e poi sulla scelta che volete e le due scelte che avranno più voti saranno i giorni della settimana in cui io caricherò video. Quindi mi sono dilungato un po' troppo e cominciamo subito. Come avete visto dal titolo siamo qui per parlare di Adiblock ma innanzitutto che cosa è? Adiblock è un'estensione che si può installare su praticamente qualsiasi browser quindi parliamo di Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer che vi permette di eliminare e togliere la pubblicità su qualunque sito al mondo. E questa cosa vi piacerà di sicuro immagino perché la pubblicità è vero fa perdere tempo a noi visualizzatori che andiamo a vedere magari un video ci dà fastidio vedere quella pubblicità di 5 secondi che poi si può mandare avanti o addirittura la pubblicità lunga da 15 secondi. Però la cosa importante che veramente poche persone capiscono è che senza quella pubblicità noi youtuber, parlo da youtuber così come qualsiasi altra persona che possiede un sito, non guadagniamo. Molta gente lo fa apposta, io non voglio che questo youtuber guadagni e allora mi installa Adiblock che è un ragionamento veramente troppo stupido. Se tu guardi un video a parere mio è giusto che tu faccia guadagnare la persona che l'ha fatto e non lo dico da creatori di contenuti perché voglio che voi mi facciate guadagnare ma molto semplicemente perché mi merito quel guadagno che poi per una visualizzazione dire minimo è poco, non si può neanche avere un guadagno in moneta di quel poco che prendiamo con una sola visualizzazione. Ma in ogni caso è giusto che voi diate la vostra mano per aiutare lo youtuber a crescere a livello economico perché c'è chi lo fa per lavoro e chi come me lo fa per passione ma dato che è una passione molto seria io in questo momento sto registrando con una videocamera da 800 euro, quegli 800 euro me li devo prendere in qualche modo. E no non me li da il papà fidatevi che non è così ve l'ho già spiegato nell'altro video io faccio il fotografo lavoro su youtube quindi ho dei guadagni che non sono parte mio papà che mi portano appunto ad acquistare queste attrezzature. Adblock quindi non è stato inventato per non far guadagnare le persone ma è stato inventato per tutti quei siti che ormai non ci sono quasi più ci sono ancora ma in piccolissima percentuale rispetto alla maggior parte dei siti su internet che appena aprite vi fanno comparire 200 pop up e non capite più veramente nulla cliccate installate virus andate a fare abbonamenti e cose simili. Questo è ciò che adblock vuole bloccare non vuole bloccare il banner che c'è qui sotto che non dà fastidio a nessuno basta cliccare sulla x per rimuoverlo e basta ma è fatto appunto per rimuovere le pubblicità invadenti. Per chi non lo sapesse adblock si può disinstallare su determinati siti infatti andando a cliccare sul simbolo di adblock perché sì anche io ce l'ho installato e poi non utilizzare su questa pagina non abilitare in questa pagina adesso non so perfettamente cosa ci sia scritto è possibile disabilitare adblock per appunto un dominio che in questo caso è youtube.com. Facendo questo procedimento come potete vedere quando voi aprite una pagina di youtube il simbolo di adblock non sarà più la mano rossa ma sarà un pollice verde questo significa che adblock è sempre installato ma su quel dominio che in questo caso è youtube.com vi mostrerà ancora la pubblicità. Questa è una cosa che io invito di fare a tutti voi veramente tutte le persone che possiedono adblock lo facciano vi prego non per me ma per tutti e le persone che non hanno adblock se non ne avete mai avuto bisogno non installatelo nemmeno. E vi faccio il semplice esempio che noi youtuber italiani parlando appunto da youtuber guadagniamo niente in confronto a youtube america dove la gente capisce queste cose e adblock non lo usa ad esempio. Poi certo ci sono altri fattori come le tasse che in italia sono molto più alte perché sì anche noi youtuber paghiamo le tasse però uno dei motivi per i quali noi youtuber italiani non guadagniamo tantissimo è proprio adblock. Quindi adblock è giusto o no? Sì adblock è giusto ma per i siti invadenti. Quindi ragazzi questo era un po' un video opinione un po' un video in cui vi davo la mia opinione appunto su questo argomento che ritengo molto importante sinceramente. Io vi invito a lasciare tantissimi mi piace mi raccomando votate dalla i qui in alto a destra quali giorni della settimana vorreste che uscissero video. Noi ci riveliamo in un prossimo video iscrivetevi al canale lasciate un pollice in su e adios e disinstallate adblock ora.